È guerra tra Maria De Filippi e Pier Silvio, stai zitta e vai fuori da Mediaset. Oggi, vi porteremo a conoscenza di un evento sconvolgente che sta scuotendo Mediaset. Prima di procedere, vi chiediamo gentilmente di guardare attentamente il video fino alla fine e di dimostrarci il vostro supporto con un «mi piace». Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le news del gossip. Pier Silvio Berlusconi ha recentemente rilasciato un'intervista che ha mandato onde d'urto attraverso il mondo dei media. Ha annunciato la separazione da vari volti celebri di Mediaset, volti che da anni fanno parte della storia dell'azienda. Da quando Silvio Berlusconi ci ha lasciato negli anni 90, Pier Silvio si è trovato a guidare l'azienda, cercando di tracciare una nuova direzione rispetto al passato. Personalità storiche come Barbara D'Urso e Belen sono state allontanate, segnando il cambiamento. Anche la posizione di Maria De Filippi è stata messa in discussione, sollevando domande su cosa riserva il futuro. La decisione di Pier Silvio ha colpito duramente Barbara D'Urso, innescando una battaglia mediatica fatta di dichiarazioni taglienti da entrambe le parti. C'è persino voce che un incontro a Milano abbia rischiato di sfociare in uno scontro fisico, con l'intervento delle forze dell'ordine per calmare gli animi. Tra le notizie più sorprendenti circolate c'è l'ipotesi che sotto la guida di Pier Silvio, nemmeno la posizione di Maria De Filippi sia così stabile come sembrava. Le dimissioni di Barbara e Belen, sue storiche colleghe, hanno creato un'atmosfera di incertezza, e l'onda emotiva legata alla morte di suo marito Maurizio Costanzo ha portato Maria a valutare seriamente l'idea di abbandonare Mediaset. Tuttavia, data l'importanza dei programmi di Maria e l'affetto del pubblico, Pier Silvio ha deciso di fare una contromossa. Ha offerto a Maria un ruolo di supermanager, un tentativo di convincerla a rimanere. Nel frattempo, circolano voci di possibili licenziamenti, inclusa l'ipotesi di Gerry Scotti. Non per il suo stile, ma piuttosto per i cali di ascolto dei suoi programmi. Il futuro di Mediaset, sotto la guida di Pier Silvio, è avvolto nell'incertezza. Silvia Toffanin sembra essere in pole position per condurre la talpa, forse grazie alla sua abilità o forse perché è la compagna del capo. Enrico Papi, che sembra essere pronto a fare il suo ritorno nel programma La pupa e il secchione. Pier Silvio ha una chiara visione per la sua strada, desidera portare la televisione italiana a un livello culturale più elevato, eliminando i conduttori associati a programmi che ritiene di basso livello. Persino Paolo Bonolis sembra essere in bilico, e il futuro di Mediaset sotto la sua guida è ancora incerto. Una cosa è certa, grandi cambiamenti stanno arrivando, come vi sveleremo nel prossimo video. E tu cosa ne pensi? Pier Silvio Berlusconi sta dando una buona impostazione ai programmi della TV Mediaset? Scrivilo nei commenti. Ti ringraziamo per aver guardato questo video e se ti è piaciuto ti invitiamo a lasciare un bel mi piace e ad iscriverti al nostro canale. Grazie. 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 Grazie.